bene abbiamo iniziato per già split ciao ciao con le mani come una mummia 5 4 3 2 1 sì mi appare mi appare già street che ha volto da un foulard di seta color fucsia che all'estremità è tenuto da una donna vestita appunto da india con i vestiti tipici vestiti indiani quindi anche copri capo e questo questo full are praticamente lo tiene incastrato quindi come se non potesse muovere le gambe le braccia non riesce a liberarsi ok è già scritto scusami tu prima hai fatto per sbaglio un video in questa chat e lei chi l'hai fatto hai fatto un video registrato e poi è interrotto perché c'è un video a sì le fanno camera era per sapere ok chi ti dà l'autorizzazione già scritto si chiede di fargli vedere come fare per liberarsi e chi è questa donna va bene iniziamo che è questa donna una nonna penso materna una nonna materna nonna materna è quella della possessione insieme alla mamma quindi madre figlia esatto c'è di da lì parte il suo essersi sentirsi legato ecco da mettiamo nel cinema le invitiamo nel cinema insieme alla madre al padre di jasper il fratello la sorella quella più tra tutti vengono tutti quella più concentrata e più disposta a seguire il film di jasper è la sorella nonostante sia lontana come se lo sentisse più affine a lei il più affine a lei della famiglia il padre il padre ha un po paura e se mi fa vedere che ha anche paura quando la suocera e la moglie hanno quelle quei momenti dove vengono ossessione se interferite se basate è un po spaventato da questa parte sconosciuta ma vibrazione di jasper 15 miliardi consapevolezza 141 anima 43 vite 1816 cervello 9.2 suscettibilità ipnotica 43 ok quasi diciamo al limite con la possibilità di andare lui stesso in ipnosi 15 miliardi 22 anni la pila è giovane energia tanta si ha molta connessione mi fa vedere ha molta connessione e molta chiarezza con le sue emozioni e quindi ha molta chiarezza sulle emozioni che lo limitano e su quelle che invece potrebbero essere le sue risorse quindi questo collegamento emozione anima è molto chiaro e molto consapevole e questo è quello che l'ha aiutato e che può essere il suo strumento la sua è come se fosse una buona base di partenza anche per sviluppare le capacità medianiche le sue capacità medianiche potrebbe essere il punto di partenza lo strumento ideale da cui partire per la sua consapevolezza e lo sviluppo delle sue capacità medianiche ok quante vite ha vissuto già spiriti in india la cosa che mi dice c'è già troppo adesso basta quella cosa che io l'ho già fatta quando ancora ancora mille otto c'erano percentuale ecco un 5 per cento che tanto sono qualche centinaia sono a centinaia più causa sottoseca del mio ecco che c'è ancora adesso io lo sento allora c'è questo tra energie entità del secondo universo legato alla religione della famiglia di di jasprit il sicismo sì probabilmente qui come se si sanno che andiamo a sradicare un pezzo è abbastanza forte quindi sta cercando di vedere cosa facciamo e diciamo l'intenzione era quello di rimanere nel campo e bloccare se ci fosse stata la necessità vabbè grazie a questo ecco mi sono ricordato di chiara di creare un nuovo cinema molto grande dove evitiamo 1,4 miliardi di indiani tutta la vita tutti tipo con la popolazione dell'india regione sic e nonno mi appaiono in questo cinema che ha ripeto diciamo riproduce un po la forma dell'india e mi fa vedere questa mi dà questa immagine diciamo loro essere bloccati con questa scusa della sovra popolazione e quindi diciamo la povertà data dalla sovra popolazione ok me la collega alla loro terra proprio terra intende proprio il terreno anche mi fa vedere come se l'india fosse proprio creata su questa terra marroncino gialla me la fa vedere così anche se in realtà non è tutta cioè non è sempre così però molto friabile no e quindi mi collega proprio questa terra così alla loro povertà e sovra popolazione ok la scusa che utilizzano per tenerli bloccati è proprio la povertà e il terreno quanti intervengono quanti arrivano in realtà è come se in realtà ci sono tutti ma è come se in automatico si chiudessero in un recinto non so come descriverlo è quasi come se cioè a parte i potenti che ti potrei dire che sono una cinquantina che controllano dall'alto che siano tutti nel recinto cinema ok è come se adesso si dessero per scontati come poveri e bloccati lì è sovra popolato questo mio cinema non esiste nessun recinto tutto il recinto la staccionata di legno salta cade tutti i libri non c'è nessun potente che controlla il cinema anzi i potenti sono immediatamente allontanati l'immagine questa appena vengono allontanati questi 50 potenti la staccionata ok tutti gli indiani si sono liberi ok e non so come descrivere come se avessero ancestralmente un livello energetico così alto che quando si libera tutti fluttuano e sotto si crea un enorme campo di energia viola che vibra ok molto bene già spread entità eteriche chi si succhia la pila allora principalmente le sue entità mentali che sono tre vediamo la facciamo delle mentali allora sono troppo alto da qui in basso allora lui questa entità mentale fa sì che ci sia una separazione tra i suoi obiettivi e lui che gli fa credere questa cosa quindi quello che lui è quello che come lui si vede è appoggiato a terra in questo ambiente nero come se fosse sempre nell'ombra ok e vede i suoi obiettivi in alto tutti bianchi come se fossero nella luce no quindi illuminati ma non c'è una scala per andare ai suoi obiettivi no quindi c'è troppo in alto è troppo in alto livello 6 poi e poi c'è se poi parti sopra dal livello che così se capiamo quanto importante diciamo poi c'è la seconda che livello 4 che giostra della confusione ed è come se lui fosse il mezzo e ci sono tutti questi bracci con tutte diciamo tutta la sua vita divisa in eventi pensieri ok e nel momento in cui lui cerca di raggiungere un pensiero o un evento questo viene shiftato e quindi nel momento in cui pensa di prendere una cosa in realtà ne sta prendendo un'altra ok questo crea la sua confusione la sua confusione è tradotta così e poi c'è un'altra di livello 34 anche questa che è isolamento ok isolamento come se lui si senti fa sì che lui si senta non adeguato agli altri non adeguato no sì non adeguato diciamo al al mondo sociale quindi non perché lui lui non vuoi non voglia avere a che fare con le persone che lo circondano diciamo con le amicizie relazioni così ma lui non si sente alla loro altezza ok quindi non adeguato in quel senso e quindi c'è isolamento tutte e tre però tutte e tre hanno di base questa che io non la chiamerà entità mentale collettiva cioè potrebbe essere familiare mi viene da dirti cioè collettiva ma della famiglia che poi sopra c'è quella c'è la religione ok ma lui sente proprio la sente proprio familiare no e in cima vedo il padre che l'ha sempre fatto sentire con bassa c'è sempre fatto sentire non adeguato no quindi la sua bassa autostima fa sì che tutte queste entità queste entità mentali lavorino tanto c'è questo quadro c'è un livello di questa entità mentale familiare 8 c'è anche un entità mentale collettiva sopra che religio che sic me eteriche allora eteriche mi fa vedere appunto l'anno la nonna dal secondo universo che in realtà se andiamo a vedere chi c'è dietro alla nonna c'è come se fosse lo scheletro di una vecchia di una signora no come se fosse solo lo scheletro una signora anziana e questa è l'entità che arriva dal secondo universo che attraverso la nonna lo interferisce ok quindi lo tiene legrato poi abbiamo invece dal primo universo c'è una carrozza con diciamo il cocchiere è un un umanoide che è metà potrei dirti metà amanti temetà rettiliano che ha una forma una forma un po umanoide ma se guardo dna e metà e metà e la carrozza davanti a due leoni non cavalli ok e poi ci sono tre uomini del tempo uno che controlla l'influenza religiosa uno che controlla l'influenza paterna è uno che controlla il suo muoversi nella società sono vestiti in maniera diversa in realtà si è come se fossero tre sfumature di grigio quello della società è più chiaro quello del padre più scuro e quello della religione ancora più su e nero va bene impianti allora c'è questo impianto che come se fossero sei quella specie di bacchettine che usano per permettere i microfoni quelli che vanno ma vicino alla bocca non mettono queste due cose che vanno dietro all'orecchio e poi ecco un impianto così che serve per filtrare le informazioni che è arrivano già street ok dall'esterno quindi con questo impianto viene filtrata la realtà a livello di informazioni che entrano dalle orecchie diciamo uditive e poi c'è una cosa un impianto che è come se fosse il contorno delle labbra ok che lo limita nell'esprimersi quindi magari anche per quanto riguarda le relazioni di amicizie o amorose viene limitato quindi magari vorrebbe esprimere delle cose ma non le può dire dice questo impianto qua e poi c'è appunto questo questo full al fa come un impianto come se avesse una fascia di metallo a livello addome e torace in cui viene anche incastrato il vaccino e le braccia non limitato nome del progetto di jazz pretto indianizzazione italiana è come se ci fosse questo progetto dove il tentativo delle entità fosse quello di trasportare questa religione indiana anche all'estero se guardo ci sono situazioni simili e anche in altre parti del mondo negli stati uniti stati uniti e anche sud sud america c'è qualcosa va bene andiamo alla all'incidente già spritta un po bevuto esce di strada non succede nulla questa però è un po la la goccia che fa traboccare il vaso da tanti anni segue le mie sessioni solo oggi si è deciso cosa succede quel giorno cosa succede allora c'è un po questo meccanismo è come se la ragazza e fosse stata presentata come prova no quindi quella che le offi offerto e offerti ha fatto bere il quarto drink che siamo quello un po fatale diciamo diciamo in cambio del bacio non ok lui si è fatto un po trascinare da ricatto ok la questione era questo metterlo alla prova e vedere se scendeva a patti quindi se lui non fosse sceso a patti non sarebbe successo niente quindi lui si è fatto caduto nel tranello del ricatto e questo l'ha portato poi a fare l'incidente diciamo che lui si è riservato una prova lieve la ps ha approvato come prima chance proprio questa no quindi se tu scendi se tu accetti i ricatti questo potrebbe succederti ma gli ha fatto succedere una cosa che comunque è stata è una soluzione semplice che è sempre un incidente quindi una bella cosa della serie sempre ricolo no di vita ma con una risoluzione semplice avrebbe potuto sicuramente fare un incidente dove magari coinvolgeva altre persone fare del male ad altre persone o farsi anche del male lui in realtà la sua ps gli ha concesso questa prova è come se fosse stata una concessione anche se in realtà magari uno non la vede così ma in realtà ok ha fatto questa azione qua diciamo che non c'è stato a parte la ragazza che è stata messa lì ovviamente dall'uomo del tempo quello vestito più chiaro ok proprio per deviare la strada di jasprit ok la sua la sua ps è riuscita a entrare un po in contatto con lui e quindi gli ha fatto poi fare l'incidente per vedere se lui come lui ha percepito in realtà no è stato shakerato si è svegliato poteva anche non svegliarsi e andare avanti su quella strada lì questo secondo me è stato un po se non so quanto tempo fa successo penso qualche mese fa non tantissimo comunque questo è stato un po diciamo anche il primo passo verso oggi verso il concedersi la sua ipnosi cioè fare qualcosa per uscire da quel loop uno scossone si va bene causa esoterica della timidezza vabbè l'impianto alle labbra di sicuro il secondo l'interferenza del secondo universo e l'entità mentale giusta la confusione della poca disciplina quello invece l'entità mentale di livello 8 perché in realtà non è poca disciplina come invece quella è lenti l'idea della poca disciplina a deriva dall'entità mentale familiare mentre il fatto di non riuscire ad arrivare agli obiettivi è proprio un po lui l'ha detto dice provo delle strade ma non funzionano quindi è come se lui si sentisse non in grado di raggiungere non ha la scala per raggiungere i suoi obiettivi quindi è la bassa autostima non è tanto la poca disciplina ecco viene confusa in questo senso perché finché lui non aumenta la sua autostima può stare lì anche ore 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 ma viene confuso c'è un po tutto assieme no quindi una cosa poi porta l'altra e lui non riesce ad andare avanti rimane sempre nel loop in concludenza la stessa cosa in costanza soprattutto nello studio è sempre quello c'è non era poca disciplina non è l'incostanza ma il proprio è proprio il quell'obiettivo lì per me è troppo quindi vado in panico in confusione e non trovo il modo mollo lì perché se io mollo lì non so se ci arrivo ok quindi ho il dubbio e mi fa meno male ma se io invece mi impegno mi impegno mi impegno non ci arrivo allora vuol dire che proprio non sono in grado ok quindi è un autodifesa perché è convinto di non arrivarci bene già split con tutto questo impianto interferente a 15 miliardi di inizio quanti già split ci sono nel futuro 3 vediamo lì ce n'è uno che non usa questa sessione per cambiare se ce n'è uno che in realtà non ha neanche fatto questi passi negli ultimi anni ok quindi che si è diciamo arreso al loop familiare viene da tire si sposerà con un indiana le cose comunque della religione lo vedo proprio avrà anche degli uomini la sua vita allora si castrerà proprio sessualmente completamente quindi né con la moglie e né con uomini proprio avrà figli se due ma il secondo secondo come se avesse seguito l'esempio della sorella quindi il secondo lo vedo non dove la sorella ma invece nord europa nord europa questo c'è così nella scena che mi fa vedere che lui è a un locale un bar e gestisce questo bar dove organizza eventi a dei dipendenti funziona molto bene a livello sociale è molto aperto ecco parla inglese parla la lingua locale se tutte e due a una donna un uomo in realtà a un uomo dopo che ha fatto esperienze con donne ma visto che in realtà sta meglio con uomini a un uomo con cui lavora lo cadello del luogo sì terzo jazz street in realtà ce ne sono un'infinità queste sono i tre più probabili si crea la situazione attuale esatto tra un mese già potrebbero non essere tutti i fatti ma altri e nè 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 poi c'è jazz street che diciamo è come se quei due fossero i due estremi ok e poi c'è jazz street che comunque va diciamo punta al all'estremo quello dove abita nel nord europa ok ma che lo fa in maniera più ponderata viene dire nel senso che sente ogni passo lo sente profondamente no quindi il tempo è un po più dilatato ok non si allontana così tanto non fa quel tipo di lavoro ma crea la sua vita comunque non così lontano lo vedo comunque con un lavoro indipendente si è lì anche lì questa parte però magari non la dico per non influenzare non so ma in che senso comunque a livello sociale lui si al suo giro di amicizie delle amicizie dove si diverte poi anche nella relazione di amicizie più superficiali no conoscenze così e comunque a un certo punto a una relazione stabile ok posso chiedere con chi quello influenziamo ok questo è un concetto fondamentale già scritto davanti a molti futuri tutti possibili sapere a 22 anni che questa è la situazione è un grande vantaggio quindi che sfortuna che ho avuto questo padre questa madre che palle questo culto indiano sic sono dettagli anzi sono palestre di allenamento sono cose che lui si è concesso per essere diverso più forte per essere diverso e se vogliamo se vorrà anche più forte mi è arrivata posso dire una cosa mi è arrivata proprio questa immagine diciamo che la sua ps ha scelto questa famiglia perché questa famiglia aveva le ps di questa famiglia avevano deciso già di spostarsi dall'india all'italia diciamo spinte guidate da l'interferenza sic verso l'italia ok e la sua ps ha preso questa famiglia come piccolo per chiudere con l'esperienza india e iniziarne una nuova in questo caso italia ecco quindi è stato lo strumento per far sì che lui potesse chiudere con l'esperienza india delle sue vite e incominciarne una nuova perché l'italia e non un altro paese per esempio europeo perché la sua anima ha preso il treno della famiglia che si stava trasferendo dall'india all'italia e non dall'india all'australia perché dice che l'italia è una nazione dove a livello di esperienze e possibilità è la più completa come posso dirti ti dico quello l'immagine che mi arriva la più completa a livello emotivo esperienziale ci sono radicate tante cose per far sì che tu possa che la ps possa sperimentare a 360 gradi però a livello proprio di radicamento ok c'è a livello superficiale può sembrare che tu diceva e new york puoi sperimentare di tutto e di più no o in spagna comunque no ma in realtà non sono radicati e più superficiale perché poi se poi vai nel profondo tipo negli stati uniti vedi che sono così e da lì non si spostano no in italia c'è nei secoli c'è stato più radicamento di diverse civiltà ok ma siccome c'è stato sono stati tanti secoli tanti millenni ok c'è stato il tempo di far sì che ogni cultura si sia radicata dice questa cosa qua anche lui era fondamenti lui è all'inizio quindi c'è anche un po questa confusione no perché è come se oltre alla confusione data dalla sua famiglia dal suo retaggio familiare ok c'è anche che lui all'inizio e quindi ha anche infinite possibilità e questo crea anche un po confusione no quindi dovrebbe sentire in questo momento qual è il primo pezzo da fare per la sua ps ok e provare a seguirlo nella profondità è una piantina appena sbocciata pensa che stamattina ho fotografato il mio seme di avocado che è nata la pianta è nata la piantina già scritta un avocado quindi avocado poi non c'è non è un frutto italiano esatto c'è in india l'avocado se mi sembra no forse bene il seme più grande se uno dei semi più grandi che conosciamo riduzione delle amicizie e delle relazioni amorose causa storico se allora l'entità mentale quella sempre 34 isolamento ok che è sempre comunque legata a quella familiare ok e direi familiare più che altro che religiosa neanche tanto quindi non quella collettiva ma proprio quella familiare dove c'è il padre no in cima e quindi che fa sì c'è la da cui si è sempre fatto convincere di non essere all'altezza ok quindi è come se lui si sente diverso e quindi non all'altezza di poter stare in questi gruppi ok senti anche un po l'essere appunto una piantina appena sbocciata no quindi come se non avesse gli strumenti per poter sostenere questi gruppi sociali intorno a lui quindi diciamo che il succo sempre quello lì causa esoterica di avere la l'idea sospetto di essere bisex questa è la nuova esperienza non è la prima vita ma è una delle poche vite dove lui al dubbio cioè non ha ben chiaro con quale dei due sessi stia meglio ok e quindi ed è diciamo si è dato la possibilità liberamente di poter scegliere e quindi come se non sapesse niente non so come dire è come se gli fosse tutto ignoto di che cosa è la relazione di coppia ok e quindi per lui c'è questa attrazione un po da una parte dall'altra e non sa con se sta se più affine a stare con una donna o con un uomo al momento raccontore come procettuale su un uomo al viene a 70 va bene lo mettiamo adesso già spetta la sua anima davanti all'anima del padre cosa si dicono stando così le cose quindi il padre ha visto sì cos'è la religione monotevista sic allora diciamo che l'anima all'anima dice voglio fare l'esperienza del limite per poter arrivare del limite della non consapevolezza di tutto ciò che non è visibile e tangibile ok per arrivare a fare il salto e conoscere tutto tutte le altre dimensioni l'anima del padre il padre nel cinema è più consapevole della sua paura di tutto ciò che non è tangibile e visibile ok perché non li conosce proprio cioè non ha proprio gli strumenti per capire e quindi sa che la sua paura è arrivata da questo ecco ha fatto questo passo di consapevolezza cosa succede a madre e nonna di jasper quando sono invasate allora è un'interferenza che arriva possedute direi perché è proprio vedo quest'altra allora ognuno ha la sua interferenza che però derivano dalla stessa entità eterica del secondo universo è più proprio mi viene da dire è un'interferenza secondo universo dark che si chiama dark cioè che mette nell'ombra e nel buio che abbassa le vibrazioni che porta nel negativo per tenere le vibrazioni basse ok se uno fosse in questa interferenza 24 su 24 pian piano si spegnerebbe proprio quindi e questa interferenza utilizza la scusa di una religione simile ma non la loro proprio ok per entrare in possessarsi di questi due corpi davanti a tutti chiamiamo il guru il dio della religione sic e e da dove viene direttamente secondo universo come fatto alle sembianze umanoidi mi appare verde tipo come se fosse tutto truccato di verde con tutti i soliti gingilli indiani pensi varie vari colori vari orecchini si esagirsi occhi a quanti desiderio e come li ha ne ha uno centrale non con i nostri è una centrale che potrebbe somigliare un canino qua e poi ne altri davanti ne altri 55 più uno e mezzo 11 e sotto questi due come se fossero allargati per lasciare lo spazio al canino ok e sono sempre sono dieci sotto 55 come si chiama ha ancora ancora guru ancora come ancora se come ancora ma invece che la c la k anima no no come no è un curo con un insegnante non hanno insomma se per la stessa storia questa è la storia del padre della madre 7 la nonna e la storia della sorella allora diciamo che no ogni tanto poverina direi nel senso vabbè essere scelto lei però è come se ogni tanto arrivasse no ancora l'informazione le dice no ancora quindi ogni tanto c'è ancora questa influenza però no e la storia del fratello fratello è molto incastrato in questa cosa ti dico la storia della sua storia come se fosse in un guscio da cui non riesce a uscire continua a battere i pugni tanto da diventare matto tanto da impazzire ecco l'immagine questa causa sutrica dell'essersi scelto questo fratello jasper i due estremi quindi alla sorella che le fa vedere gli strumenti per poter uscire no quindi è il fratello che invece non non utilizza questi strumenti quindi la scelta lui ha davanti i due esempi due estremi e in mezzo c'è tutto quello che lui può scegliere quindi per questo ha scelto la famiglia con questo qua con queste caratteristiche si è scelto questo fratello perché se ne dovrà prendere cura no si è scelto con la sorella perché la deve imitare no è proprio è possibile se tutto è possibile assolutamente diciamo che a livello in maniera neutra la sorella fa vedere che ci sono gli strumenti e si può e il fratello gli fa vedere che che poi anche non è non vedere gli strumenti o non essere in grado di usarli quindi è come se gli fosse mostrato tutto lo spreco tutto lo spettro di tutte le possibilità ecco va bene lo chiamiamo il disincarnato o l'anima di già scritto vuole o no il nonno paterno l'ha scelto un po a caso non c'era nessun tipo di rapporto lo vuole chiamare c'è qualche disincarnato che interferisce con lui per esempio no 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 non c'è nessun disincarnato che interferisce con lui lo vuole chiamare indifferente vediamolo allora lo vedo che è come se avesse fatto un passetto nel senso che non è non so per quale ragione ma non è nel loop religioso della religione ok quindi è ancora non è nel portale ma non è incastrato in quella cosa lì è come se fosse in un po l'immagine che mi fa vedere come se lui fosse nella in un posto senza rendersi conto che sono incastrati però è come se fossero sempre in un posto dove tra anziani giocano a carte fanno battute non c'è altro non c'è niente proprio come se fossero no sempre in questo posto dove possono divertirsi in maniera che può sembrare neutra ecco per vuole lasciare un massaggio a se stesso a noi a chiunque a jasper tuo padre forse a volte tuo padre forse esagera nel voler ritenere tutti così è una così male scusa mi ripeti ma poi la religione a tenervi tutti così a voler ritenere tutti così dentro a un cubo non mi fa vedere un cubo ma poi la religione non è così male bene vuole andare nel portale ma che mi sembra tanto convinto nel senso non cambia paura ma indifferente e indifferente non è indifferente lì c'è la verità quindi se la religione non è così male lì c'è la verità che la religione non è così male andiamo a provarlo allora nel momento in cui è entrato che è diventato l'energia del portale aureo gli è stato mostrato dall'alto tutto il meccanismo della religione dell'interferenza del secondo universo e tutto gli è stato proprio mostrato come se fosse no un gioco di burattini ecco manipolati no e quindi adesso a questa informazione ed è tutto chiaro quindi quando tu hai detto vai a vedere c'è nel portale aureo a vedere come funziona e lui ha visto come come il gioco dice ecco perché mi hai fatto andare nel portale aureo ecco adesso gli è tutto chiaro questa regione non è così male lo ripete no 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 non lo ripeto all'evento l'ultimo messaggio a jasper nipote di 22 anni faccio i complimenti alla tua ps per aver fatto sì che tu te ne accorgessi così presto beh lo chiudiamo lo salutiamo lo chiudiamo e vediamo come si chiama questa benedetta ps di jasper raggio di sole e la pie ninfa bene il messaggio è che jasper è un eletto no che jasper è meglio degli altri no il messaggio è che jasper ha capito che lui può fare tutto assolutamente tu sei un eletta elena no io sono un eletto no chi l'ha detto già spenta 22 anni ha fatto questa sessione con queste parole cosa fa da solo sta andando al cluster dice c'è sì sì io lo so come si fa come cosa c'è al cluster nel cluster ci sono a mi fa vedere un sacco di sono tutti i fiori di lotto sparsi più che altro sul muro di colori diversi ma chiusi vuole buttare tutti nel portale aureo perché sono l'idea è come se la sentisse come c'è l'idea del fiore di lotto che è una cosa per un condizionamento si quasi un ammagliare no perché c'è il fiore bello colorato con tanti pietre e quindi sei tirato verso di lì lui dice quindi vuole portare tutto dentro un tutta tutto nel portale aureo definitivo si scusa definitivo ok quale fiore di lotto crea lui qui quindi qual è la sua creazione qualunque sia va bene ecco di nuovo non piace sta cosa ah no no più ci ricordiamo che siamo dei e più i falsi dei si incazzano il gioco si sta chiudendo abbiamo quasi finito il gioco per ricordarci di noi siccome lui stava creando il suo ad eterno nel momento in cui è arrivato l'eco ha fatto questa cosa che secondo me da da un'idea precisa del fatto che lui inizi proprio a capire come funziona perché dal suo ad eterno ok che è come se fosse un piccolo sasso mi viene da dire una pietra ok per terra da cui esce un raggio di vibrazione molto alta ok e mentre c'era l'eco lui ha creato intorno a tutta la sessione intorno a tutti noi una griglia rotonda di vibrazione che ha fatto sì che quando le interferenze si avvicinavano venivano fulgurate e bruciate quindi questo ad eterno come fatto è una pietra da qui esce questo in questo raggio di vibrazioni altissime avatar la parola anche abbastanza indiana lavata in terra in questo caso il pupazzo che controlla tutte le 1816 vite di jazz che è stato creato da jazz le stelle ha messo lui lì lo lascia lì la nostra aperta portale definitivo e sta votando tutto dentro sicuro se si forse per questo che molti rinunciano alla sessione o rimandano all'infinito perché ci si prende una responsabilità con se stessi io chiedo sempre se sono sicuri prima parlavamo dell'eletto non io glielo chiedono più di una volta è sicuro sei sicuro mio one le nasce certo tutti siamo letti non esiste quello che salva il mondo in realtà sì perché l'unico mondo di jazz fritta è già spritta decisi infatti quindi effettivamente lui è mio quello che salva il mondo perché il suo mondo non è uguale al tuo e non è uguale al mio ci saremo anche in quegli altri mondi noi siamo delle specie di proiezioni come se fossero delle stere che si incastrano hanno dei pezzi in comune anche questa è una perla di saggezza gigantesca i bonifici sono ben accetti anche in questo caso bene lo toglie stupo passo sì sì è già tutto buttato ha già fatto ad eterno che in realtà mi fa vedere è un cristallo di rocca da qui esce tutta si irradia tutta l'energia della potentissima energia benissimo con questa condizione lo scheletro la donna scheletro del secondo universo la carrozza con i leoni trainata da leoni i tre uomini del tempo di tre nuance diverse le tre entità mentali troppo alto da qui in basso giostra confusione ed isolamento più tutti gli impianti ci sono ancora no il progetto come si chiamava indianizzazione in italia esiste ancora no ok il nuovo progetto sì che vogliamo chiamarlo così di jasper come si chiama da raggio di sole a sole completo quindi riprende il nome della ps se c'è il nome è da raggio di sole al sole completo se è come se adesso no c'è raggio di sole un po come la dette ha nunca messo nel cluster ti te un po quella lì no raggio di sole in una direzione in alto a che poi diventa tutto tridimensionale quindi una sfera di sole ovunque vibrazione 6171 consapevolezza 203 ps 68 vite 1347 quelli indiane le tolte se tutte tutte più altre si si tutte quelle indiane tutte ok non gli servono più c'era l'ha imparata la cosa se 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 cervello 9.9 suscettibilità ipnotica 63 ok quello che vuole studiare fa parte dei suoi obiettivi animici sicuramente sì tanto poco sì sì trada sbagliata no 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 è l'inizio di una strada che in questo momento è proprio la strada che a lui ecco in geniale perché quella che gli serve per muoversi da lì messaggio che si vuole lasciare prima di quello libero o voglio che si lascia un messaggio che inizi sempre messaggi che si iniziano sempre con io sono io sono bellezza libertà e capacità quindi si può dire io sono bello se sono libero io sia capace poi sempre con io sono perché io sono tutto e adesso c'è mentre diceva queste cose gli si è illuminato ha detto io sono dio l'ha capito adesso se sei proprio ho sentito dentro la sua il suo stupore su euro reca al padre cosa dice con io sono grazie per avermi fatto da tramite ti lascio al tuo destino e con io sono cosa vuole dire a padre io sono io e sono il mio dio alla madre io sono io sono altro alla sorella io sono il sole che tu hai visto al fratello io sono per me stesso e non per te a se stesso io sono ciò che è vibrazione 847 capacità mediani che 70 no 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 capacità mediani che il cervello di essere questo noi la capacità ipnotica a suscettibilità ipnotica capacità mediani che 10.6 ti sei commossa il no no se sono c'è una vibrazione altissima ok ma che altro battuta finale iridescenza bene disconnettiti da tutto e tutti e torniamo perdite la grazie a tutti